e buona prima ragazzi sono tagri con le mani sempre sono io sono con il suo video sempre su virtual manager quest'oggi andrò ad elencare 10 dinamiche che vorrei venissero inserite all'interno del gioco futuro quindi di fm 23 o dei prossimi fm so perfettamente che a livello di disponibilità economica le risorse sono quel che sono perché sports interactive non è un'azienda estremamente gigante o comunque un colosso del gaming come sono molte altre aziende come gli sports activision e quel che sia però vorrei anche che non ci si sedesse sugli allori ma si pensasse sempre più in grande per riuscire a espandere maggiormente questo gioco che non vi nascondo è di nicchia perché futuro manager non è conosciuto da tantissime persone però fm 22 secondo mais ha venduto molte più copie di quanto si sarebbero aspettati quindi per andare avanti in un trend positivo è importante anche portare delle migliorie all'interno del gioco cercando quindi di portare anche lì nuova clientela e nuove appassionati del gioco in questo video quindi come già detto vi elencherò 10 dinamiche che vorrei venissero inserite all'interno del gioco certe magari possono essere fatte in maniera più semplice altre invece sono molto più complesse perché richiedono un approfondimento notevole dietro però con il tempo spero che si arriverà ad avere quello l'ordine è in base a quando mi sono venuto in mente quindi non c'è un ordine specifico non c'è una preferenza o quel che sia parto dalla prima dinamica che spero venga inserita all'interno dei prossimi giochi ovvero un allenamento individuale quindi un allenamento settimanale differenziato perché dico questo perché all'interno della scheda di allenamento settimanale noi possiamo andare a inserire attacco difesa tecnica o quello che sia il problema è che viene applicato a tutta la rosa in questione e in più l'allenamento individuale fa sviluppare solo una caratteristica sostanzialmente che sia movimento di attacco posizionamento difensivo terzo finale e così via mi piacerebbe che l'allenamento individuale venisse espanso in modo tale da avere delle sedute di allenamento specifiche nel senso che se avete un gruppetto di difensori che è molto forte nella difesa dalle palle alte quel gruppetto lì magari al posto di farlo allenare ancora su questa tipologia di allenamento lo sposterò ad allenarsi più su un difendere largo ad esempio un'altra parte di difesa che invece è più lacunosa in quello devo avere l'opportunità di andare ad allenarla in quella zona lì per poter avere delle migliorie quindi mi piacerebbe che in questa schermata venissero anche inseriti i gruppi quindi qua si fanno anche qui viene un po' rivisto si fanno dei gruppi e si dice guardate che questi giocatori preferirei che venissero allenati in questa zona piuttosto che con un'altra seduta di allenamento oppure anche dalla semplice rosa non so si selezionano i giocatori si dice guardate che questi vorrei che facessero questo allenamento il giorno x rispetto all'allenamento che devono fare tutti gli altri anche per i giovani ad esempio se abbiamo un ragazzo come qui il benfica una squadra molto giovane se abbiamo dei calciatori 19 anni avranno una tipologia o comunque una sessione di allenamento anche di intensità che sarà diversa rispetto a otamendi che ha 33 anni quindi vorrei avere più possibilità di variare le sedute di allenamento settimanali ai calciatori la seconda dinamica che vorrei venisse inserita all'interno dei prossimi football manager è la parte tattica non fraintendetemi la parte tattica sicuramente fatta bene su fm ci sono stati dei passi in avanti notevoli rispetto a quanto succedeva in fm passati però non è neanche ancora abbastanza nel senso che si è vero si può anche decidere di fare una parte tattica di impostazione e di difesa diversa con tutti i ruoli specifici però diventa troppo complesso vorrei che venisse inserita in questa zona qua una parte di disposizione tattica o di schieramento della squadra in fase di impostazione e in fase di difesa perché ci sono sicuramente molte più dinamiche da inserire in queste schermate in fase di transizione si può fare molto di più di questo in fase di non possesso si può fare molto più di questo poi nel calcio moderno ormai le squadre impostano principalmente a tre dietro quindi a meno che io non vada a inserire qua un halfback quindi un centro mediano metodista il centrocampista non si abbasserà mai o comunque il difensor il terzino non si accentrerà a impostare quindi vorrei che venisse proprio ampliata la schermata per dire come vuoi che la tua squadra si metta in fase di impostazione e si mette lo schieramento tattico con i vari ruoli poi ci sarà anche lo schieramento tattico con i vari ruoli in fase di difesa e così via magari inserendo anche delle dinamiche dove gli si chiede qual è la tua filosofia calcistica quindi non so muovere la palla negli spazi e gli si chiederà ai calciatori di andare più in profondità e di occupare meglio la posizione nel campo e così via la terza dinamica che vorrei venisse incrementata all'interno del gioco è la parte dei trasferimenti anche qui è ovvio che hanno fatto un ottimo lavoro mettendo tutti i bonus le rate e così via però i trasferimenti in real life sono ancora più complessi di quanto siano normalmente appunto per quello nonostante in real life non si potrebbe fare ma ormai tutte le squadre lo fanno non se ne infiscano di quelle che sarebbero le regole vorrei che venisse inserita la possibilità di trovare l'accordo prima con il calciatore piuttosto che con il club perché può capitare che all'interno del gioco una trattativa vada molto per le lunghe perché non si trova la quadra con il club e magari passano due settimane e mezzo prima di arrivare al sede definitivo del club e poi ci troviamo la sorpresa perché quando dobbiamo andare a trattare il contratto con il calciatore ci dice che non è interessato e quindi abbiamo perso quelle due settimane e mezzo trattando inutilmente se noi invece riusciamo a trovare l'accordo prima con il calciatore potremmo agevolare anche poi la trattativa con il club arrivando a questo un calciatore che discute l'accordo con noi ed è molto interessato alla trattativa potrebbe anche spingere poi la cessione da quella società in modo tale da abbassare le pretese che si ha sul prezzo del cartellino così come mi piacerebbe venisse anche inserita la possibilità di parlare in maniera diretta con gli agenti non solo chiedendo quanto vorrebbe il calciatore o quanto vorrebbe la società ma in più vorrei che fosse proprio la gente a proporre determinati calciatori dicendo guardate che per questa squadra potrebbe far bene questo mi ha assistito oppure potremmo essere noi bravi a parlare con la gente in modo tale da essere lui a spingere per una cessione di un calciatore come succede ad esempio in real life con determinati agenti dei calciatori che vanno nella sede e spingono il calciatore in un'altra squadra oppure sempre la gente al posto di avere un'offerta da una squadra può arrivare a bussare la porta e dire guardate che io ho in mano non so 30 milioni da una squadra straniera voi cosa volete fare oppure al posto di arrivare ad avere un giocatore infelice scontento o quel che sia la gente arriva da voi e dice guardate che il mio assistito al momento non è felice in questo club perché vorrebbe che venisse fatto questo 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 quindi discutete prima con la gente e poi con il calciatore non che di punto in bianco vi ritrovate la spaccatura all'interno dello spogliatoio perché il calciatore è scontento in concomitanza al ridimensionamento dei trasferimenti vorrei che venisse di pari passo ampliato anche il sistema di contratti nel senso che è già abbastanza dettagliato di suo però molto spesso in real life sentiamo parlare di 4 milioni fissi più x di bonus questa possibilità non è molto ben fornita all'interno del gioco perché i bonus ci sono che sono presenze goal o quel che sia ma si potrebbe sviluppare un pacchetto ben definito se compriamo un giocatore che a livello di cronaca infortuni è molto spesso rotto noi possiamo dirgli guarda che ti offriamo un milione di fisso però se tu mi garantisci 30 presenze nel corso di questa stagione ti do un altro milione di bonus se tu mi vinci non so il premio di miglior giocatore del mese guadagni un altro bonus e così via proprio giocare con la possibilità di avere uno stipendio più basso ma andare a boostare poi con tutti dei pacchetti che in base alle prestazioni che fa il calciatore vi permetterà di spendere di più o di meno sullo stipendio del calciatore in essere è ovvio che se le prestazioni del vostro calciatore sono positive sarete anche contenti di spendere maggiormente perché poi i risultati arrivano ma se voi andate a spendere uno stipendio elevato e poi il calciatore vi gioca male sarete più infelici rispetto alla dinamica espressa pochi secondi fa appunto per questo vorrei che ci fosse anche un ridimensionamento degli stipendi con il covid molte squadre hanno stravolto quello che è il loro budget degli ingaggi molti giocatori addirittura per rimanere nel club hanno accettato di avere una decortazione del proprio stipendio quindi su fm vorrei che venisse ampliato anche questo perché adesso se andiamo a proporre uno stravolgimento del loro stipendio abbassando le pretese la maggior parte delle volte si arriverà con il calciatore che prende e se ne va perché non accetta quello che viene fornito così come vorrei che ci fosse anche la possibilità di rinnovare il calciatore promettendogli inoltre di essere ceduto subito a titolo definitivo oppure di essere ceduto nella prossima sessione a titolo definitivo come ha fatto il Torino ad esempio con Bremer che ha detto io ti rinnovo il contratto però vorrei che io venissi ceduto nella prossima sessione di mercato se adesso noi andiamo a rinnovare un contratto è molto difficile piazzare subito a titolo definitivo un calciatore ma anche lo stesso prestito è complicato da dare il real life non è così perché molto spesso vengono comprati dei giocatori giovani gli si fa il contratto e gli si cedono subito a titolo temporaneo o a volte anche a titolo definitivo mentre su FM bisogna aspettare almeno sei mesi prima di arrivare ad avere questa dinamica siamo arrivati a metà del video e in questa parte vorrei dedicarmi alla schermata della partita quando andate a giocare una partita su FM ovviamente c'è una schermata ben complessa con tutte delle informazioni vorrei che tutto ciò venisse incrementato maggiormente e che sia molto più personalizzabile nel senso decidere come vengono fatti tutti i vari riquadri nel senso che noi possiamo decidere se avere il sommario della partita piuttosto che la classifica del campionato e così via però quella schermata non è modificabile cioè se io la classifica del campionato voglio che mi faccia vedere solo le prime sei squadre a me non interessa che poi vada fino alla quindicesima quindi decidere che mi mostrano solo sei squadre mi fanno vedere vittorie, pareggi, sconfitte, differenzi reti o dati che mi possono essere utili nella schermata della partita così come il sesto punto che vorrei venisse incrementato è un hitmap il gioco non dispone di un hitmap nel corso della partita a meno che non mettete una skin specifica come nel mio caso la Zealand skin l'hitmap è fondamentale per capire come si sta giocando la partita in essere arrivati al 2022 e FM non dispone ancora di quello secondo me è una grossa problematica appunto per quello vorrei che venisse inserita non solo nella schermata di home poi se ne arrivo quel che sia ma anche nel corso della partita il settimo punto è il nuovo arrivato centro dati chiaramente hanno fatto un ottimo lavoro perché dispone di dinamiche che non erano mai state inserite prima all'interno del gioco e che possono essere molto utili per cercare di vincere più partite come ho già mostrato io sul canale tuttavia è ancora molto grezzo nel senso che si può ampliare in maniera molto più dettagliata e questo fa bene sia ai neofiti del gioco che magari riescono a capire in maniera più semplice come funziona la propria tattica ma anche per quelli più analitici perché chi gioca a Football Manager magari è un allenatore virtuale tra virgolette che è molto analitico e si basa molto sui dati in possesso a tal proposito vorrei che venisse inserito uno schema o comunque delle immagini dei video della propria tattica in modo tale da riuscire ad analizzare quali sono i punti di forza e i punti di debolezza di quello che si va a dire ai propri giocatori punti di forza e punti di debolezza che possono essere anche visti visti a seconda delle filosofie calcistiche quindi se la nostra tattica è un ad esempio tekitaka il gioco ci può dire guardate che la vostra tattica funziona molto bene contro questi schemi però pecca contro questi altri schemi a tal proposito per riuscire a contrastare questi schemi si potrebbe cercare di non so avanzare questo giocatore abbassarlo mettersi a tre dietro e così via ciò renderebbe come già detto un'esperienza per i neofiti molto più semplice perché riuscirebbe a capire meglio le dinamiche del gioco ma anche per i più analitici riuscirebbe ad aprire maggiormente la mente delle persone e capire come disporsi meglio nel corso della partita o nel corso della stagione avvicinandoci al termine del video il settimo punto riguarda la personalizzazione del gioco non disponendo di licenze FM potrebbe fare questo grande passo in avanti nel senso che grazie alla community il gioco dispone di una skin migliore i loghi, le magliette, gli stadi e quel che sia ufficiali dei vari club perché normalmente FM come già detto non disponendo di licenze ha molte poche cose ufficiali anche determinati nomi come quello della Juve viene chiamato Zebre a tal proposito vorrei che fossero molto più aperti a una personalizzazione quando noi andiamo a firmare un contratto per una squadra abbiamo uno stipendio, in questo caso il mio, è di 895.000 euro all'anno questo stipendio non viene sostanzialmente mai utilizzato anzi potrebbe essere una problematica se si vuole cambiare squadra nonostante il contratto non sia ancora terminato perché la squadra che ci vuole assumere come allenatore dovrebbe pagare la buona uscita al club in questione quindi oltre a essere una cosa non utilizzabile lo stipendio è anche un handicap all'interno del gioco a tal proposito vorrei che ci fosse una schermata dedicata dove lo stipendio si può utilizzare per, non so, avere la manager life quindi si sceglie la propria casa, si sceglie la propria macchina i propri arredamenti, la sala trofei dove vengono esposti tutti i vari trofei vinti e così via avere un modo per andare a utilizzare il proprio stipendio così come andando avanti di stagione in stagione potrebbe essere monotono avere sempre le stesse divise sempre gli stessi loghi e così via e quindi avere una personalizzazione in modo tale da riuscire a cambiare in maniera molto semplice e non andando su photoshop le magliette delle varie squadre i loghi delle varie squadre lo stadio in essere quando si chiede di creare un nuovo stadio o di ampliarlo avere anche una possibilità di scegliere come fare le gradinate il manto erboso se farlo sintetico o quel che sia e così via proprio avere una personalizzazione più ampia all'interno del gioco che ora come ora non c'è assolutamente il nono punto riguarda le giovanili nel senso che le giovanili dei club non sono allenabili sarebbe bello per un allenatore partire proprio dalle giovanili della squadra magari se voi tifate, non so, il Benfica in questo caso sarebbe bello partire proprio dalle giovanili della vostra squadra del cuore per cercare di arrivare al top, alla squadra primaria avendo fatto tutti gli step necessari per avere la formazione adatta ed allenare nel migliore dei modi possibili questo su FM purtroppo non è possibile e vorrei che venisse ampliato così come vorrei che ci fossero nella posta in arrivo delle schermate ben precise dove vi dice guardate che questo giovane sta facendo davvero bene e meriterebbe un posto in prima squadra o meriterebbe di un otaggio oppure è consigliabile mandarlo in questa squadra che sia affiliato o meno perché può migliorare ancora il suo percorso di crescita e così via questo viene molto semplificato all'interno del gioco quindi nel centro sviluppo o comunque nelle giovanili lì bisogna essere bravi noi a capire chi ha il potenziale e chi no per rimanere in prima squadra l'ultimo punto che vorrei venisse inserito all'interno del gioco sono i dati fisici e le caratteristiche dei giocatori è chiaro che la schermata principale di un calciatore è già ben dettagliata abbiamo le qualità tutta la sua cronistoria cronologia infortuni valore e così via tuttavia quando vi parlo sempre di caratteristiche dei calciatori ci sono dei dati specifici che all'interno di FM purtroppo non ci sono neancora è chiaro che con le qualità si riesce a capire come andare a sfruttare meglio un calciatore ma ci sono dei fattori che non vengono mai mostrate all'interno del gioco che sono fondamentali per capire in che parte del campo andare a mettere quel giocatore in questione a tal proposito mi voglio basare su un'analisi che ha fatto un match analyst su Twitter di un neoclisto della Juve che è il Diz e vi voglio mostrare quindi queste immagini è chiaro che è una questione molto analitica e che molti potrebbero non capire cosa significa tutto ciò però per quelli che sono in grado di capire questi dati avrebbero molta più margine di scelta nei vari giocatori Gabriele Grizzuti ci viene a dire dei dati che non sono presenti all'interno del gioco come ad esempio il somatotipo il somatotipo è la composizione corporea del calciatore ci dice che è un ectomesomorfo ectomorfo vuol dire che è un giocatore che ha le leve lunghe avendo in parte la corporatura di mesomorfo ci aiuta a capire che a differenza di un ectomorfo completo il mesomorfo aiuta ad avere anche una minor difficoltà nel mettere sviluppo muscolare cosa che se non ci fosse questa dinamica e fosse solo ectomorfo lui farebbe molta fatica a mettere muscoli in più ci dice la posizione lui viene utilizzato principalmente come centrocampista interno di destra e centrocampista centrale barra trequartista centrale avendo un'attitudine d'attacco quindi lui tende a finalizzare già questo cosa ci fa capire? che lui è più un trequartista piuttosto che un interno a meno che non venga utilizzato come mezzala ad esempio seconda immagine qualità fisico-atletiche longitipo di alta statura di struttura media presenta un somatotipo ectomesomorfo avendo un tono muscolare più tonico negli arti inferiori spicca nella flessibilità specialmente in quella tibiotarsica unisce una buona rapidità a una velocità di punta soddisfacente possiede forze elastiche da segnalare una significativa qualità di orientamento e di differenziazione legata a una velocità di esecuzione rilevante qualità tecniche destro naturale uso con sufficiente domestichezza anche il sinistro spicca per il dominio palla preciso nel controllo o anche orientato mostra una guida a palla di livello associata a puro dribbling d'abilità da segnalare un uso particolare della crochetta spesso si incappunisce tenendo la testa sul pallone un aspetto da migliorare buone capacità di trasmissione sufficiente padronanza nei tipi di passaggi più comuni ma non agitata lunga tuttavia mostra più che discrete capacità di tiro anche da media distanza qualità tattiche gioca come centrocampista interno di destro come centrocampista trequartista centrale in un centrocampo a tre o con rombo ha chiara attitudine offensive è invece impulsivo difensivamente non mostrando tempi di intervento corretti padroneggiando il gioco però è abile negli intercetti predilige ricevere palla tra i piedi piuttosto che in profondità e conseguentemente occupa zone di campo tra le linee o in appoggio al compagno nel pressing offensivo della squadra lavora con temperamento qualità comportamentali non si notano in base dalla visione dei filmati comportamenti negativi nei confronti di tutti gli addetti impiegati in campo piuttosto si denota una buona personalità nelle reiterazioni delle sue giocate individuali anche dopo errori banali valutazione finale il calciatore ha buone qualità tecnico-atletiche la sua duttività centrocampo può essere decisiva nel suo salto in un contesto completamente diverso dal quale è abituato saranno decisivi i prossimi due anni per una progettualità futura in prima squadra tutte queste informazioni sono fondamentali per capire come andare a mettere in campo quel giocatore perché ci ha dato tantissime schede che il gioco non presenta così come ci possono essere anche delle schede sulla preparazione atletica e vengono effettuati dei test ogni anno nel precampionato che ci vanno a dire dei dati come ad esempio l'utilizzo del trampolino per capire quanta forza esplosiva ha un calciatore così come viene fatto un test chiamato test isocinetico che si fa solitamente alla leg extension per capire i distretti muscolari articolari più soggetti agli infortuni a che punto sono se notiamo che un calciatore da un'annata all'altra ha avuto un calo in questi test possiamo capire quindi che la tipologia di allenamento dovrà essere fatta in maniera diversa via quindi tutto ciò so che è molto difficile da inserire all'interno del gioco perché richiede tanto tempo dietro però ci sono le persone apposta che lo fanno e vorrei o meglio mi piacerebbe venisse inserito per capire a pieni regimi come andare a mettere il calciatore nella miglior condizione possibile per rendere al meglio questi erano i miei dieci punti se voi avete altri consigli vi invito a lasciarli nei commenti spero che questo video possa raggiungere la Sport Interactive in qualche modo per mandarli delle nuove idee che fanno sempre bene poi non tutte magari sono realizzabili magari nessuna è realizzabile o tutte possono essere realizzate quello non lo so io spero comunque che il video sia piaciuto se è stato qui vi lasciate un bel like commentate e condividete noi ci vediamo nel prossimo video non mi andate a lei bella regà ciao ciao ciao